Irina Shaikh Irina Shaikh, tutti segreti per copiare il suo make-up da star Irina Shaikh ha fatto molto parlare di sé ultimamente, primo per la sua relazione con Bradley Cooper da cui è nata anche una bimba, in seguito per la sua carriera di top model che riscuote sempre più successo. Una delle ultime collaborazioni in ambito moda la vista protagonista della pubblicità del brand Intimissimi, che vuole celebrare la femminilità nel mondo. La top model di origini russe è una donna elegante e affascinante che si mostra in pubblico sempre perfetta, merito certamente della sua naturale bellezza, ma anche di un make-up davvero unico che la rende una vera diva. Molte donne si chiederanno quindi, come si fa ad ottenere un make-up da star come quello di Irina Shaikh? Ecco svelati tutti i segreti per splendere in ogni occasione. Trucco da diva in poche e semplici mosse. Per sembrare una diva, proprio come la splendida Irina Shaikh, è fondamentale seguire alcuni step, in modo da creare un make-up impeccabile. La prima cosa su cui è necessario corre attenzione è la base che deve essere uniforme e si ottiene utilizzando un fondotinta adatto alle tonalità della pelle. Una volta applicato nella giusta dose, si possono rimuovere gli eccessi grazie allutilizzo di una vellina, per terminare infine con una spolverata di terra che definisca meglio i tratti del viso. Uno dei tratti distintivi della top model inoltre sono le sopracciglia spesse e ben delineate. Anche chi ha le sopracciglia sottili, può comunque usare un piccolo trucco, basta pettinarle verso lalto e fissarle con un mascara specifico per aumentare subito il loro volume. La terza fase riguarda gli occhi, che devono essere in linea con le sopracciglia. Il primo step prevede l'applicazione di un primer sulle palpebre, in seguito si realizzano alcune sfumature scure verso la coda dell'occhio con una matita. Si applica un ombretto e si illuminano con un po' di polvere, in questo modo si ottiene uno sguardo felino davvero accattivante. Infine, la Shake sceglie molto spesso un effetto nude per le sue labbra, che si ottiene prima massaggiandole con l'utilizzo di uno spazzolino e in seguito applicando un sottile strato di rossetto, in questo modo si valorizza il volume e la carnosità, senza però esagerare. Capelli e make-up, la formula perfetta di Irina Shake. Irina Shake ha un fascino senza eguali e per essere sempre al top della forma, la modella sfoggia per ogni occasione pubblica un make-up eccezionale, unito a un airstyle di gran classe. Durante gli shooting fotografici o sul rent carpe, la modella ha dimostrato di avere grande cura dei suoi capelli e di saper cambiare con grande facilità. La Shake infatti si è mostrata con i capelli sciolti con la riga centrale, ma anche con un elegantissimo chignon basso sulla nuca che permetteva di raccogliere i capelli in modo ordinato, proprio come se fosse una ballerina di danza classica. Non è mancata anche una coda di cavallo bassa, i capelli sciolti questa volta con la riga laterale e un bellissimo effetto mosso con ampie onde, sfoggiato in occasione della campagna promozionale di Blue Marine. Non c'è dubbio però che a differenza di altre top model che prediligono airstyle complessi, la Shake preferisca la semplicità e la naturalezza, mostrandosi spesso con i suoi lunghi capelli lisci. .